è tutta una mafia il partizan belgrado conquista per la terza volta nella sua storia la finalina della 70 league ed è l'unica squadra ad aver raggiunto tale obiettivo sconfitto 7 a 4 un millwall quasi all'osso ma onorevolmente ancora in piedi che cade solo per 4 a 7 con le triplette di cambiaso e lattanzi e la rete di abet per i serbi e i gol di micciche dodero ancora micciche e chiedo scusa con un'altra rete di daniele dodero per il millwall millwall caschierato remetti daniele dodero romita micciche cesaroni allo sardo per il partizan sono scesi in campo ciprari capitano lattanzi per leonardi cambiaso sgavicchia abet e poi capo c'è passato dalla dirigenza fornita anche di craparutta e berna al campo inizia dietro larga 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 non avanti Vieni, 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 Vieni Vieni, Vieni Vieni, Vieni 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 Vieni